e faccio questa live del sabato spero che tutte e tutti voi stiate bene faccio questa live non ho preparato nessun argomento a parte il fatto che mi ha mareggiato la mattina il cellulare che gli ho regalato a natale a mia madre un ipro f 183 in pratica appena lo accendi attiva i dati non ho trovato la maniera di risolvere il problema è un macello e così ci fa sprecare la la ricarica prepaga non so proprio che pensare forse non c'è bisogno della luce lei bene come state gente spero che tutte e tutti voi stiate bene poi ho seguito il caso della ferragni non solo ci sarebbe il caso pandoro ma anche l'uovo gate l'uovo di pasqua e chissà quante altre cose è tutta una sorpresa sta ferragna tutta una sorpresa grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Noce, io mangio frutta secca a merenda. Oh, hello to everybody! Hola, come stanno? Ah, adesso ci sono zero persone. Eh, faccio queste live... Eh... Approfitto che faccio merenda, faccio la live. Uno youtuber sa come diceva Nino Manfredi, con crema e gusto ogni momento è quello giusto. Ciao. Allora, che dire, io ho già fatto una live sulla Ferragne, poi purtroppo inavvertitamente ho tolto i sottotitoli. Che dire della Ferragne? Che già da prima che facessi quella live sono saltate fuori cose con l'uovo di Pasqua. Addirittura si è messa con l'uovo di Pasqua. Ma come ti permetti? Non so se sempre con la Bolocco, Balocco o con un'altra marca. Ma con l'uovo di Pasqua no. Vabbè che io ultimamente non li compro più gli uova di Pasqua. Non ne compro più le uova di Pasqua. Sono cari. Ci facciamo una chilata di cioccolato, due barre di cioccolato di un chilo ciascuna e via. C'è chi se lo fa a casa l'uovo. Basta conservare il plastico dell'uovo di cioccolato di qualche anno prima, lo lavi, lo pulisci, lo asciughi e poi fare l'uovo è semplice. Basta spennellare il cioccolato nella parte interna o esterna dell'involucro di plastico dell'uovo che avrai comprato magari anni fa. Oppure compri direttamente uno di queste confezioni qua per contenere l'uovo e che non si rovini. Ci sono delle case per fare cose gastronomiche che riesci a comprare questi oggetti per fare gastronomia. una cassareccia ti fa il luogo di cioccolato, basta fare il cioccolato fondente in modo che si possa spennellare. Poi si asciuga, fai qualche strato, poi lo stacchi dal plastico, riunisci le due parti insieme, ci metti, diciamo intorno, ci metti. cioccolato, anche un adorno. E alla fine, alla fine, alla fine. Ciao, io non so se è la stessa persona che entra, esce, entra, esce, oppure vediamo come sto con il flash. Mi consiglia sempre YouTube di fare le live in verticale, perché a me tutto il mondo mi segue col cellulare. Entrano o escono due persone alla volta, ancora... Hello, coibri body. Vediamo un po' alla corta distanza... Ci vedo bene. Alla corta distanza media ci vedo bene. Sogno. Sogno! Ho son desto, che c'ho quattro persone connesse. Hola todos y todas, queridas amigas y amigos míos. Hola e se ne vanno. Entrano in quattro e se ne vanno in quattro. Che dire? Ciao! Entra in uno e se ne va in uno. Non c'è nessuna interazione. Vediamo perché a volte non mi riporta la chat. No, ancora nessuno ha chatato. Salutatemi in live. Salutatemi. Mi state a guardare in quattro, in cinque e non salutate. Ma... Ah! Allegria! Io ho disattivato, mi sembra, le comunicazioni ai contatti. Perché in un video hanno detto che abbassavano le visuals. Magari se erano sbagliati. E... Che bello! Che effetto speciale! Poi mi sto filmando con questo cellulare che ha a bassa risoluzione. c'ha 5 megapixel di camera selfie. Perché non voglio utilizzare troppo tempo il cellulare che mia madre mi ha regalato in marzo 2023. mentre il Motorola Age 30 Fusion. Salve! L'ho utilizzato nelle mie ultime... live è a farci dei video e si riscalda sempre molto. Allora lo voglio risparmiare un po'. Come vedete! . Diani Jordan . Si passa a un altro livello con il tripode, con questo tripode da tavola che in realtà mia madre già mi aveva comprato un tripode normale con l'anello di luce, bellissimo, e l'ho utilizzato, ma con questo selfie stick si passa a un altro livello. Marito e moglie, ciao! Come stai? Sant'Enchan like, amico nostro, grazie, grazie mille marito e moglie. Buon sabato e buon fine settimana marito e moglie e mi raccomando se potete condividiate a tutti quelli dei family questa live, perché io condivido, però loro non vengono. Facevo questa live che sto merendando, sto facendo merenda, allora ne ho approfittato. Avrei voluto partire prima in live, però quello che è successo è che mi sono svegliato da più di un'ora che dopo la siesta, ho fatto una piccola siesta, che mi ha fatto venire mal di testa, ma ha rovinato il giorno sto cellulare, che vi ho fatto un tutorial e ho spiegato che proprio il suo grande problema è quello di avere dei problemi con i dati e infatti non ve lo consiglio di comprarlo, perché l'ho regalato a mia madre per Natale 2023 e ogni volta che l'accento partano i dati e in più il fornitore di dati e tutto è cinese, capito? E quindi non so come mi scarica il prepago, perché mia madre gli mette pochi euro dentro, volevo un cellulare di emergenza. Peccato che per lei era bello, ma non so se lo regaliamo, come conformarlo? Perché ogni volta che bisogna provare, se funziona la disattivazione dei dati, bisogna caricare il saldo, allora ti porta via un sacco di euro, provare, provare, riprovare, non si sa, perché i cinesi lo avranno fatto in modo che tu ogni volta che lo carichi si scarica con i dati di provveditori cinesi. Grazie mille, grazie mille per il tuo consiglio. Sì, sì, purtroppo non ci sono grandi marche, c'è per esempio dei Nokia con i bottoncini, ma non è più la Nokia, mi sembra che li fanno avendosi comprato il marchio, il brand, e poi vi farò sapere se riesco a disattivare i dati, perché ogni volta credo di avere trovato la spiegazione giusta, ma questi si attivano lo stesso. Si attivano lo stesso. C'è da impazzire, c'è. C'è da impazzire, è veramente, non se ne può più, peccato, perché mia madre ci teneva, e io ho spesso dei soldi, 50 euro, questa porcheria qua, comprata in Alibaba, credo, sì, perché un amico di famiglia l'ha comprata, perché non è che si trovano con bottoncini così. A saperlo continuavo a usare quello grigio, il Motorola C350 che mia madre mi ha comprato nel 2004, che ancora funziona. Questo non lo so fin quando funziona, perché lo tiro al muro. Purtroppo non ti possiamo aiutare se non l'avessimo fatto volentieri di aiutarti. Non ti preoccupare, non vi preoccupate, carissimi marito e moglie. Oppure, sì, potete aiutarmi, cercate sul web, se trovate qualcosa, o se conoscete un tecnico, come togliere i dati, che non si connetti da solo, dell'iPro F183. Troverete un mio video nel mio canale, che ho fatto un video in Premiere, quindi tra i miei video normali, non live, troverete un video che è titolato iPro 183, F183. Allora, se voi conoscete un tecnico o una persona delle telecomunicazioni, magari saprà un po' di cellulari, se conosce questo modello, magari che ci aiuti a me e a tutti quelli che hanno una persona della terza età, che magari sta in un geriatrico, mia madre per fortuna no ancora, che cosa fare, perché alla fine della fiera, voglio dire, ci aiutiamo tra tutti, io poi faccio un video mostrando come disattivare i dati, in modo che se una persona ce l'ha in macchina per emergenza, anche non anziano, no, c'ha il bottone di SOS, che quello comunque funziona, a prescindere da tutto, ma per fare una chiamata d'urgenza a qualche parente perché ti venga a prendere, insomma, se ti scarica i dati, alla fine non puoi chiamare a nessun, solo emergenza. Moltissime grazie, marito e moglie. Vediamo di cambiare effetto speciale, ho tre persone, tre persone, peccato che queste tre persone non chatano. Vediamo un po', ci sono pochi effetti speciali, soprattutto non ci sono filtri. Seppia, aurora, 8 mm, raggio, glamour. Non c'è, oggi non c'è bolle. Ecco, 8 mm, l'effetto speciale 8 mm. Beh, faccio questa live per riuscire a fare la foto di copertina, perché si deve fare in orizzontale. Mamma mia! Comunque, perunque, YouTube mi consiglia sempre di fare... Ciao ai due che sono entrati! YouTube mi consiglia sempre di fare delle live in verticale, perché la maggior parte delle persone mi seguono su dispositivi mobili, e poi perché in questo modo entra nei feed degli shorts. E a me guardano moltissimo gli shorts, cavolo se li guardano. Guardassero così anche i video, sarebbe bello. Adesso c'è zero persone collegate. Bravi! Che poi non so se il contatore di spettatori, di follower, sia proprio quello che è. Ma io ne sono contento uguale. Certo, avrei potuto iniziare mezz'ora fa, come minimo, la live, però le cose sono come devono essere. Ancora non ho potuto provare questo pendrive. E quindi io lascerò il titolo della live così, perché 256 gigabyte. Lascerò il titolo della live così, perché sto parlando un po' di tutto. Come facevo nel passato quando mi filmavo, video normali, filmavo un po' di tutto, perché la vita è così, no? La vita è così. È un po' di tutto, è una commedia. Tragedie, drammi, melodrammi, cose comiche, volgari, incidenti di percorso, cellulari che ti rubano i dati. Mi vedono così e dicono, sta prendendo la rivista mia. Prendo la rivista mia. Voglio far vedere tutto. Allora mi raccomando, fate entrare gente nella live. Fate entrare gente in questa live. E se innescono persone quando lo chiedo. Piìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Grazie. 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 Oh, che bella sorpresa. Adesso c'è una persona che mi segue. Ma io reputo che sia la connessione. Mi sento contento con il mio nuovo giocatolo. Mi sento molto contento con questo cellulare che vediamo... Cellulare. No. Con questo tripode. Con questo tripode che sta qua. Qua vediamo se riesco... Qua bisogna entrare in 4 o 5 menu per fare una foto. E poi non ha lo schermo sufficientemente grande come per... Ecco qua. Potete vedere... Non si vede niente. Il tripode... Il tripode del quale stavo parlando all'inizio del video... Che mia madre è riuscita a comprarmi... Me l'hanno portato adesso. L'abbiamo ordinato sul web. E mia madre è riuscita a comprarmi... Non so se due... Una o due settimane fa. E' venuto in pochi giorni però. Cioè da quando l'abbiamo effettivamente ordinato. E... C'è anche la luce LED. Non è costato molto. Ma è comodo. E' comodo. Perché in realtà non è un tripode. Questo è il bello. In realtà è un palo selfie. Ma diventa tripode da tavolo. Cioè spendi un po' di più invece di comprarti quei tripodi da tavolo che sono snodabili oppure strani, no? Che hanno un supporto brutto di plastico fino. Che sai che il cellulare da lì si getta, si butta. Comprati un palo selfie che abbia la base che si possa aprire. E poi quando lo tiri in su, non lo tirare tutto. Perché lo stesso palo selfie gli fa da supporto e poi da contrapeso. Allora non c'è bisogno di... Questo si apre a un metro e cinque, un metro e dieci il palo selfie. Ma tanto come palo selfie, a meno che tu non hai una camera di due, tre megapixel selfie, che come... soprattutto come tripode, non ti serve aprire questo palo selfie alla massima estensione. Anche perché come tripode da tavola gli toglieresti il supporto, perché il contrapeso, no? E quindi si sbilancierebbe perché si eleverebbe troppo il baricentro verso l'alto. E il cellulare potrebbe cadere. E poi dovresti mettergli un'angolazione molto acuta. Quindi alla fine ti riprende proprio la capoccia, la zucca. E invece come palo selfie lo allontaneresti troppo dal corpo. Io ci ho provato. Ma poi alla fine viene esagerata la cosa. E poi è difficile, dipende che video fai. Se fai una live, farla in verticale non ha senso. La faresti in orizzontale con il palo esteso al massimo. Ma ti assicuro che reggere un palo selfie per fare una live in verticale non ha senso. Lo tieni distanziato dal corpo, il cellulare, non lo devi prendere con le mani, in orizzontale o in verticale. Ma questo è il vantaggio, il vantaggio, no? Non si vede molto, non si vede molto il cellulare. Perché giustamente, giustamente ho fatto la foto che è la luce Ecco qua. La luce non fa vedere bene. A volte la luce offusca. Ma stavo per dire abbaia. Ma no! Abbaia, non abbaia. Ecco qua il palo selfie che si apre, come potete vedere, la base e diventa, e diventa un tripode. È bellissimo. Poi c'è il bottone incorporato nel manico, nella parte bassa. Cioè questa che serve per fare gli shot, cioè gli scattini, tac, tac, per farti i selfie fotografici. Allora, non vi comprate un tripode da tavola, compratevi un palo selfie che diventa tripode da tavola e soprattutto che sia di qualità. Questo è costato circa 20 euro, insomma, grosso modo quello. Però vi conviene. Trascia anarchico dal nickname Pasquipedale Pasquipedale Buon pomeriggio, come sta? Buon pomeriggio, carissimo Trascia anarchico Buon pomeriggio, carissimo Trascia anarchico Sto facendo merenda Stavo parlando del palo selfie che diventa tripode E questo cellulare, mi raccomando presenta degli inconvenienti L'Aipro F183 Che ho comprato a mia madre Nel Natale 2023 Perché si attivano i dati soli Cosa che mi succedeva con il Nokia Asha 302 all'inizio Poi sono riuscito a disattivare i dati Perché ho messo indirizzi falsi Ma in questo mi sembra che non riesco a disattivare Un provveditore di dati cinese E allora si riattiva ogni volta che lo accendi Capito? E a te come va, carissimo amico mio? Come ti va? Bollicine non so se le hanno tolte Glamour, raggio, 8 mm Aurora Bello questo Divento un disegnino Oggi ho dei picchi di audienze di quattro persone Ma non so se saranno i dati reali Voglio vedere quanta carica del cellulare ciò 53, non male, non male Posso rimanere ancora un bel po' con tutte e tutti voi E così, sì Quattro persone collegate però chattano solamente 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 una Adesso sono tre Ti ringrazio Trash anarchico Dal nickname Pasquipedale Che sei passato a salutarmi E adesso c'è solo una persona collegata Non so se sei te o chi è Io lo dico sempre Mi piace che mi vediate in live Logico, faccio le live per questo Ma se potete Interagite Almeno con un saluto Come hanno fatto molti qua Ma se volete andare oltre Intervenite con una super chat Intervenite con una super chat O uno sticker Mi farete molto contento Poi naturalmente Io A quest'ora Alle 5 Di solito non guardo la tele Se lo facessi Preferisco stare in live Con tutte e tutti voi Come dire Come dire Prima ho accennato Al video che ho fatto Sulla Chiara Ferragni E il pandoro Ballocco Dicendo che appunto C'era anche in agguato L'uovo gate Cioè io già avevo ascoltato Nel periodo in cui ho fatto Quella live Che c'era C'era una fire Pandò Uovo Addirittura con l'uovo Si è messa E non solo con l'uovo Chissà quante cose saltano fuori Ma io dico Ci sono bisogno C'è bisogno di intermediari Per fare beneficenza Ma andate alla mensa Dei poveri Con una chilata di pasta Una volta si cucinava I poveri Si portava nella mensa Il cibo Comunque Io sono disposto A fare Del video Per tutti coloro Che ne faranno richiesta Ma se mi donate O adesso in live Oppure comprate Dei super grazie Sotto questo video Quando non sarà più live Oppure Qualsiasi altro Mio video E' logico Che se voi andate a vedere Fra le mie migliaia di video Quelli che ho fatto all'inizio Che duravano anche 40 minuti Ormai chi se lo ricorda Di quello che parlavo Ma se voi guardate 40 minuti di un mio video del passato Comprate in quel video un super grazie E commentate Facendomi una domanda Circa un qualche cosa Che ho detto in quel video Mettendo il minutaggio Quindi Sant'Enchan Al minuto 43 minuti 53 secondi Hai detto questo Questo Quell'altro Vorrei un approfondimento Su questo tema Su questo Che cosa volevi dire Io mi riguarderò A cambio della donazione Tutto quel video Magari di 8 O 11 anni fa Infatti devo ancora fare Una live Per l'onomastico Del mio canale Adversario Che fa 11 anni L'11 febbraio 2024 Il canale di youtube Sant'Enchan Ha fatto 11 anni E allora io andrò A controllare quel video Perché altrimenti Non è che C'ho tempo Per andare a vedere Video Di 11 anni fa 9 anni fa E dirvi Quello che stavo spiegando Dopo aver guardato Un video di 53 minuti Però se voi comprate Un super grazie Adesso c'è una persona Seguendomi Hanno tolto Hanno tolto bollicine Dagli effetti speciali Dai filtri Hanno tolto Adesso è venuta una nuova persona Mi raccomando Sostenetemi Donazioni Super chat Sticker E soprattutto Se Voi vedete Il mio video Del passato E vi piace Qualche argomento Con un super grazie Commentate In quel video Nel minuto Perché ho fatto anche Video di 40 minuti Nel passato Che argomento Vi interessa Guardare di più Fatemi del domande Con il minutaggio Nel quale Avete ascoltato Qualcosa di interessante Di quel video Comprando Super grazie E io vi risponderò Con un altro video Allora Che altro dire Quanti minuti Sono passati 41 minuti E io pensavo Io pensavo Io pensavo Che Che no Che era tardi Per fare una live Entrano più persone Quando sto in silenzio Che non Quando parlo Comunque È vero Il fatto Di fare una live In verticale Ti fa entrare E uscire Abbastanza gente Perché A me Le live Non sempre Le seguono molto Ma Gli short Di più Sempre si sporcano Gli occhiali Nei bordi Non so Ci correrebbe Uno stuzzicadenti Ma ho paura Che ci sia Qualche cosa A reggerli È È È È È È È È Allora facciamo questa live, facciamo questa live, come dire? Oggi è sabato, ieri era venerdì e domani sarà domenica. Entrano anche due persone alla volta, complimenti. E c'è chi entra, c'è chi esce. Perché ha ragione YouTube, con gli short in verticale fai la figura del maiale. Io vado avanti, vado avanti finché la luce led regge e finché regge il microfono. Voglio vedere se... Hola, hola, como están, come va a tutti, quien sabe de donde me sigue. Perché quando entri nei feed degli short, ti possono seguire da tutto il mondo. Non ti cercano solo per titolo. Non ti cercano solo per... Ti cercano anche per le raccomandazioni. Per esempio, siccome... Mi seguono molto in giro. Mi seguono molto in giro. E allora succede che... Hanno visto in molti i miei video, soprattutto i miei short. E quindi YouTube raccomandi questo formato di live a tutti quelli che mi seguono negli short. E quindi alla fine, non so perché io una volta ho fatto anche... In un giorno 8.000 views con uno solo short. E quindi è logico che... Poi avendo anche altri canali secondari e del brand YouTube, Sant'Incien, è logico che tutti quelli che hanno visto qualcosa che nel titolo o nel nome del canale ci avrà Sant'Incien come short, riceveranno l'avviso di vedermi qua. Salve a tutte e tutti, buona domenica. Vedo che siete in tre. Vediamo... Chat live. Vediamo il benvenuto. Ma io sono... Perché a volte non è la chat live. Allora, vediamo... Doc. Doc non so che cos'è. Sembra che è ritornato il colore. Colori sempre vivi. Sempre. Perché sempre? Colori vivi. Vividi. Vividi. E che hanno vissuto. Ecco perché non mettono vividi. Ma in realtà i colori sono vividi. perché tu quando vedi una foto ormai quello è un momento catturato che è sfuggito. Un momento catturato che è sfuggito. Come il numero delle views qua sopra. Uno, due, quattro, cinque, sette, nove... Avrei potuto trasmettere venti, trenta minuti in più di live. Però, vabbè, non importa. Che c'ho il giocatolo nuovo. Il palo selfie che diventa... diventa un tripode da tavolo. A che sto in tavola. Hola a todos. Buenos dias. Buenas tardes y buenas noches. Hello to everybody. Enjoy a great Saturday. Salve a tutti. Buon sabato, buon fine settimana. Oh, sono entrati quattro. Ne sono usciti tre. Paola, ciao. Ciao Paola. Adesso siete in sei. Ciao Paola, come va? Buon sabato e buon fine settimana. Come va? Tutto bene? Se puoi supportare il mio canale, carissima Paola, o compri un abbonamento, puoi anche selezionare quando dice di più se dare meno di due euro. E poi compra un super grazie, sotto qualche mio video per chiedermi la continuazione dell'argomento. Il tuo commento sarà messo in evidenza. Oppure partecipa qua a della chat con super grazie... No, con super... con sticker e super chat. se puoi, eh? E se no, condividi questa live in modo che altri possano entrare e partecipare. Mi aiuteresti anche così. E dai like, dai like alla live. Paola, carissima Paola. Allora, vediamo un po'. Ah, c'è cinque persone. Ma allora è vero che la live in verticale funziona di più che la live in orizzontale, perché c'è più interazione. Poi, d'altra parte, quando si deve fare una... un videoblog, ti vedono in tutto il corpo. Se metti in orizzontale, ti vedono soltanto un mezzo busto. Valentina Sedda. Ciao, ci saluti a me e a mia sorella. Ci chiamiamo Federico e Adele. Ah, va bene. Valentina Sedda. Ciao, buon sabato e buon fine settimana. Allora, a te Federico e Adele. E non ho capito però perché il canale sta con Valentina. Allora, ciao Federico e Adele, buon sabato, buon fine settimana. Ma anche Valentina, devo salutare o no? Comunque, se vuoi condividi questa live con quante più persone puoi, in modo che entrino anche... E se puoi supportarmi, allora, oltre a dare un like, partecipa con una super chat, con uno sticker, compra o sotto a questa live o sotto qualche video di cui vuole a continuazione un super grazie e poi se puoi abbonati anche con meno di un euro, devi fare click in di più quando vai a comprare l'abbonamento e lì, oppure super grazie e lì poi con una barretta lineare scegliere quanto dare. Valentina Sedda, ok, la condivido con i miei sette amici. Grazie mille, carissima amica mia. E se non la vedranno adesso, la vedranno come video quando terminerò, perché io non so quando terminerò questa live. Già sto da 51 minuti e 55 secondi. Prima vi ho parlato di questo cellulare che dà dei gratacapi con i dati che si attivano soli e vi ho spiegato molte cose, ma ne ho anche parlato in un mio video che ho fatto tempo fa e appena ricevuto e quindi andatevi a vedere quel video che ho fatto ho filmato in orizzontale con una camera compatta Sony. Ecco qua, sono molto contento che adesso ci saranno sette persone nuove che mi conosceranno e come dire, speriamo che avrei dovuto iniziare questa live a tempo, però bisogna dare tempo al tempo. Le cose succedono così, non avevo preventivato di fare la live, non porto nessun argomento nuovo al canale né alla community e niente, riesco a fare questa live abbastanza bene grazie al regalo di mia madre, un palo selfie che diventa anche tripode da tavola. Emma 77, ciao, buon pomeriggio, buon sabato e buon fine settimana. Ciao, che fai? io sto finendo di fare merenda con il mate e parlavo del tutto e del più per crescere insieme su YouTube, poi ho parlato degli inconvenienti di questo cellulare che gli ho regalato a mia madre, sconsiglio di comprarlo, perché non so disattivare i dati. Io ho avuto gli stessi problemi con il Nokia Asha 302, ma lì i dati che si attivavano soli sono riuscito a disattivarli. Con questo cellulare ancora no. Non so, mi fa impazzire, lo dovrò regalare, dovrò comprarne un altro a mia madre. Sì, ho un bel cellulare per la terza età, perché hai bottoni grandi. Difatti circolano dei Nokia con bottoni, ma non sono più della marca Nokia, ma sono di un brand cinese. Il fatto è che tutti questi cellulari piccolini si attiva sempre i dati soli e poi difficilmente hanno il 4G, hanno il 3G che sta per andare fuori uso, quindi è una grattacapo grande. Vediamo di regalarlo a qualcuno, è costato 50, la bellezza di 50 euro circa. E purtroppo si attivano i dati. Io sono riuscito a disattivarli dopo tante peripezie con il Nokia Asha 302. Basta mettere un finto provveditore di dati, ma qua non si può cambiare, è il provveditore di dati e cinese, quindi si connette con un satellite cinese. Questo è il problema. Non so che cellulare prendergli a mia madre che vuole un cellulare con i bottoni grandi, perché lei odia il touchscreen. Fabio Kisari, no fidati di me, non è bello. Beh, di necessità virtù, caro Fabio, a mia madre non gli piacciono i touchscreen. Fabio Kisari, sei proprio vecchio, grazie, sarai giovane tu, magari c'hai 16 anni. Come ti chiami? San Ten Chan, ovviamente, ovviamente mi chiamo San Ten Chan. San Ten è un nome buddista cinese, io gli ho aggiunto Chan. e tu come ti chiami? Emma 77. Emma 77. Perché io mi immagino che Emma è un tuo nickname, invece che 77 è il tuo vero cognome. A me mi piace che nelle reti sociali mi chiedano quando leggono San Ten Chan ma tu come ti chiami? E' incredibile, no? Perché se mi faccio chiamare così, mi chiamo così, punto. C'era una persona che aveva un nickname, che era un un acronimo alfanumerico, 77 v 34 50 mi diceva ma tu non ti chiami San Ten Chan e io gli dicevo tu ti chiami v 140 147 bronco, non so come, mi diceva che ti importa? E allora che ti importa te, scusa? vabbè, no, i messaggi di prima. Ci sono delle persone che intervengono, non in modo offensivo, perché mi dicano sei vecchio, è relativo, uno può essere giovane o può essere vecchio, a seconda di chi osserva, no? Certo, se un adolescente per un adolescente sono già, io sono una persona della seconda età, non è che sono per un adolescente, per un adolescente potrei, se ha benissimo 16 anni, 12 anni, 16 anni, essere suo nonno, per un bambino sono suo nonno, quindi, adesso, se una persona un po' più grande, 45 anni, già potrei essere il fratello maggiore, il cugino maggiore, e niente, dopo questi interventi creativi, qual è il tuo nome? Capirai, e ormai tutti ti domandano, anche su Telegram, qual è il tuo nome? Ma lo leggi, lo leggi da qualche parte qua, qual è il mio nome? E allora che lo chiedi a fare? No, perché tu ti chiami Emma 77? Sì, ecco, allora, io non ti dico no, ma, perché chiunque, uno, io mi potrei mettere come nome, Luciano Pavarotti, ma guarda, che ci sono dei casi di ononimia con il tenore italiano, eh? Placido Domingo, e tu che ne sai che io mi chiamo o no? Placido Domingo, veramente, come dire, se ne è andato il LED, se è scaricato, come dire, fanno delle domande, Andrea Guglielmini, piacere, io mi chiamo Andrea Guglielmini, va bene? Prova a stabilire il contrario. Andrea Guglielmini, veramente, io da adesso mi faccio cambio il nome al canale, Andrea Guglielmini. Voglio vedere, voglio vedere che succede, perché mi sembra che ogni 15 giorni, ogni mese puoi cambiare la chiocciola. Voglio vedere in quanti dicono no, tu non ti chiami Andrea Guglielmini. E perché? Sulla bassa di che? scusa. Lo puoi stabilire che io non mi chiamo Andrea Guglielmini. Allora, se non credi che io mi chiamo Andrea Guglielmini, puoi pure non credere che io mi chiami Andrea Guglielmini. Santeciani? C'era uno che mi diceva fammi vedere la tua carta di identità. Certo, sul web. Anzi. Certo, sul web fare vedere la carta di identità. E poi perché? Se non credono che io sono o Andrea Guglielmini o Santeciani, voglio dire ma che importa? io c'ho avuto anche centomila spettatori in un mese. Io ti lascio di seguirti e mi ha detto uno proprio nella lettera se non mi dici come ti chiami. coi milioni di video coi milioni di video coi milioni di video che escono in YouTube Italia magari al giorno perché c'è gente che li fa di 40 e 50 secondi molte live in un giorno ci sono proprio dei videomani che non fanno come me due o tre video la settimana fanno due o tre video la mattina solo così tanto per gradire tanto non mi guarda nessuno adesso adesso che c'ho vicino ciò vicino il tripode del quale parlavo prima il tripode vedete adesso continuo con il palo selfie vediamo un po' adesso vediamo perché prima si è finita la luce led adesso si era sconnesso il web e fra poco finiscono le batterie del microfono e dovrò dovrò smettere speriamo che non mi cari cellulare perché manca solo questo ecco ecco potete vedere potete vedere che c'è già il 47 per cento della carica che è meglio filmarsi col palo selfie adesso non sta più sul tavolo del dove facevo la merenda ma ce l'ho il palo in mano così mi facilito il compito di leggere la chat vediamo un po' no c'è l'intervento di prima quante persone ciò mi sembra che mi devo mettere occhiali mi devo mettere gli occhiali per la distanza media perché ho allungato troppo il palo questi li ho così vedo come fare una live e posso leggere in relativa calma ecco posso leggere in relativa calma il cellulare con questi occhiali allora mi raccomando c'ho quattro like sono contento come vedete qua sono pieno di libri libri di tutti i tipi se volete che io faccio un video su un argomento magari un video in orizzontale perché dicono che le live premiano in verticale ma le premier non premiano le premier in verticale non premiano e allora voi mi potete supportare con un super grazie o con un abbonamento e mi chiedete nel commento saint jean parlami di questo argomento qua e io vado a leggere se c'ho dei libri al riguardo oppure perché che succede che se io tratto degli argomenti speciali poi youtube youtube magari non mi monetizza quel video e io quindi devo devo guadagnare in poche parole da qualche parte quindi mi raccomando molte volte io ho fatto video di cultura e youtube non li ha monetizzato perché non interessano non interessa niente gli sponsor di youtube allora se voi volete che io vi parli di un tema letterario di letteratura di narrativa di storia di geologia di archeologia di quello che voi però supportatemi con super chat adesso sticker oppure comprate super grazie fate abbonatevi ci avete una sticella da di gradualizzazione e alla fine voi potete donare anche meno di 4 euro perché potete scegliere un valore intermedio c'è gente che mi ha donato un euro con 50 potete scegliere pure 50 centesimi mi sembra non so se sotto l'euro si può donare però di sicuro non è necessario donare 200 400 euro e io vi farò dei video alla misura volete che io parli di letteratura di storia di politica di attualità un tema che vi interessa molto addirittura ci sono dei video di attualità che youtube ha messo per un pubblico dopo anni che li ho caricati e che non hanno fatto molte views però youtube si ha accorto di un video del colonialismo francese e lo ha messo atto un pubblico di maggiori 18 anni così non è monetizzabile non so se youtube ci mette la pubblicità ma io non ci guadagno più nulla ci avrò guadagnato qualche centesimo in otto anni forse ecco vedo che escono e salgono persone qua sembra che sto a regge la canna da pesca perché avrei dovuto mettere avrei dovuto mettere però la distanza non è la stessa avrei dovuto mettere il cellulare nella base ma voglio voglio continuare con il palo 6 perché altrimenti come dire togliere mettere togliere mettere il cellulare poi succede che si incassina e magari non ci sono le bollicine metto 8 mm ecco qua mi trema un po il polso io andrò avanti finché ciò che sono microfonato perché poi non so se continuare anche senza microfono ciao e lo ora adesso siete in due felice sabato il felice fin di semana adesso siete in zero guardate quanti libri che ho guardate quanti libri guardate quanti libri guardate quanti libri también nel mueble al lado hai un montón de libros compren un super growso y aussi link in alcuni libri principalmente nell'ubierno e qui, come home mieszanos in ogni período all'això 外 sono libri libri por tutti entrò anche dal cocino o se leigni io garanto 各 geografia alcun tema compre non super grazia e mi pidano un argomento se ne vanno tutti o a dirmi che faccio i video belli sono bravi tutti come dire questa è una delle live più larghe che ho fatto certo ho fatto anche di un'ora con 50 anni passato ma così senza argomento no poi non so se youtube ha mantenuto la spunta disattivata di commentare di comunicare agli iscritti la live io l'ho disattivata ah ecco mi è venuto in mente la prima volta che faccio una live con il palo selfie allora la ferragne di cui abbiamo parlato prima non solo c'è il pandoro gate ma anche l'uovo di cioccolato gate che non è da confondersi con bill gates o la come va buon sabato a tutti e buon fine settimana e li sarà dove felice fin de semana entrano escono entrano escono persone complimenti e invece un promedio di quattro persone non mi posso lamentare dai io dovrò fare un altro video sulla ferragne già avevo fatto una live però questa voleva essere un video facendo merenda adesso un momento che devo andare in bagno e non posso portarmi il cellulare con me bagno quindi adesso pazientate pazientate che adesso vengo 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 Grazie a tutti. 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 e devo andare. forse... fra gli... Grazie a tutti. Grazie a tutti. e... non parlavo... e... e... Buon sabato... Buona domenica... Buona domenica... un feliz sabato... su domingo... Siete in 5... adesso siete in 2... ho perso... e... e... grazie a tutti. e... dove... prima passo per... però ecco... di... argomento... 00... 00... 00... e quindi... e quindi... come dire... come dire... come dire... e tutti... e... 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 aspettate... 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 150... e... 150... ... mi raccomando... mi raccomando... mi raccomando... mi raccomando... e... fate... più... ciao... ciao... e... vi lascio... su queste immagini... del mio altarino buddista... e... 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 e...